È da qui che partono molti dagli attacchi aerei russi in Siria. È la base aerea di Hamimim nei pressi di Latakia, nella Siria nord-occidentale. Da qui partono decine di aerei dai caccia e bombardieri supersolici. È ovviamente una base del genere. Ha bisogno di uno staff imponente per funzionare. Anche se i russi non ci hanno comunicato le cifre del personale presente, il nostro inviato ha potuto visitare la base. Una visita da Embedded non viene praticata alla censura. Possiamo dire ciò che vogliamo, ma evidentemente possiamo vedere solo ciò che ci viene mostrato. Nella base c'è anche uno psicologo per aiutare i militari. Il ruolo dello psicologo, ci spiega, è molto importante perché molti dei ragazzi qui hanno accumulato una certa fatica, stanchezza e sono lontani da casa, dalla loro terra. Viene in aiuto contro lo stress a spaesamento, anche il cibo, tutto fatto venire dalla Russia e cucinato alla russa. L'unica eccezione è l'acqua che viene comunque purificata in loco.